A dare notizia del provvedimento adottato dall'assessorato regionale territorio d'ambiente guidato da Maurizio Croce è stato l'onorevole Nino Oddo. Il deputato trapanese preso atto del parere positivo alla valutazione di incidenza ambientale del progetto riguardante il terzo lotto dei lavori di completamento delle banchine a Levante del canale di mezzo con il quale si è sbloccato l'iter burocratico che ne aveva frenato la realizzazione, non ha mancato di esprimere la sua soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo al quale lavorava da circa un anno. Il progetto a suo tempo redatto dall'ex ASI, oggi IRSAP, prevede la posa in opera di una banchina lunga 180,70 metri larga 12 con un ulteriore tratto di circa 28 metri su cui è prevista la costruzione di una palificata di chiusura. I lavori interesseranno una superficie di 12.600 metri quadri mentre il costo è stato stimato in 15 milioni di euro. Viene a soluzione finalmente un annoso problema che permetterà al porto del capoluogo di potenziare al massimo la sua operatività facendone fulcro vitale della sua economia. Una bella notizia certamente che viene a fare il paio con l'altra di ieri relativa ai lavori di completamento della barriera di difesa della Litorania Nord. Due opere che non mancheranno di fornire un'importante boccata di ossigeno anche sul versante dell'occupazione, specie di un settore, quello dell'edilizia, che da tempo reclama a sostegno e opportunità di rilancio. Ci è voluto alcuni mesi di lavoro oscuro dietro le quinte di questa assemblea regionale per sbloccare un lavoro di 15 milioni di euro. In un momento come quello in cui viviamo, in cui i cantieri aperti ce ne sono veramente pochi, 15 milioni di euro sono un grosso lavoro e questo è già importante perché dà fiato all'economia locale. Ma soprattutto è un lavoro che rimette in movimento la portualità giapanese perché realizza e ammoderna le banchine dell'area industriale del porto di Trapani e ci mette nelle condizioni di poter guardare avanti per rilanciare questo porto. In un momento nel quale si sta riorganizzando la situazione portuale in Italia e il porto di Trapani rivendica la sua autonomia, le sue potenzialità economiche e mercantili. Quindi avere una banchina efficiente è fondamentale per poter offrire un'offerta mercantile agli operatori economici. Grazie. Grazie.